Nella terra di Mordor, dove si estendono le ombre. Fu qui, alle pendici del Monte Fato, che Sauron, lo scuro signore, venne sconfitto dall'ultima alleanza fra uomini ed elf. È qui che per 2500 anni i ramminghi di Gondor vigilarono contro una minaccia senza nome, che non poteva essere dimenticata. E mentre la forza di Gondor svaniva, il potere e la malvagità di Sauron crescevano nell'ospedale. È ritornato a Mordor. Uomo, che fiamme hanno volto il muro al cielo? E nessun uomo in te può incamminarsi sul suo sentiero. Ioreca! Dirael! Filippo! Quello è un colpo perfetto Per uccidere polpi Non vorrei farti del male Quello non basterà di certo Di Irael, il flagello dei polli Forza! Forza! Fammi vedere che sai fare Dovrai colpire con più forza Se vuoi sconfiggere tuo padre Così? Non scordarti di parare, figliolo Già! E tu non scordarti di colpire Sta' attento, di Irael Il nemico non è sempre quello che sembra Vacci piano Non sei ancora un soldato Ti spavolverò! Irael! Ricorda ciò che ti ho insegnato Sperch da tin mangi Scredye paccetto Le colpito Ma è sempre Scredye panna Scredye panna Non este giro Non è sempre Non è sempre Sperch Loiev Lo stand ré� excited оки �azzi Continuiamo a sespondarlo! Non fatevi prendere! Basta! Poi allo trappolentamente, padre! Affondi e tagli i profondi! Ricorda! Sono gli orchi più forti che abbiamo mai visto! Non sono orchi, sono Uruk! Sono molto peggio e ce ne sono troppi! Trova tua madre! Trova tua madre! Proteggila! Io sarò alle tue spalle, vai! Sono morto! La morte ti ha esiliato! André! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non dimentica... Buon anniversario. Talion. È bellissimo. Dove l'hai trovato? Ho ancora degli amici a Gondor. Hai parlato con mio padre? Sì, ma... Non è servito a nulla. È molto ostinato. Andiamo comunque. Di Rael non ne sarà felice. Ci sarà pure una vita migliore di questa. Non ora... ma presto. Sono stanca di nascondermi qui, Talion. Se non ci nascondiamo, siamo morti. Forza. Avremmo dovuto andarcene. Ora è tardi. Non muoverti. Aprirò un barco. Sono in troppi. Dovrò restare nascosto. Dovremo combattere. Non saccheggiare perché... Andiamoci dentro. Il usa troppo di carne di Taro. Sì. Taro sta a mangiare. Dobbiamo tornare a combattere. Abbassa la spada, raminco. La mano nera lo vuole più, signoretta. No. Prendi. Lassami. No. No. È fina. Padre! Il re! Guarda! Sono qui, figlio mio! Sono qui! Non c'è un po' di... Non c'è un po' di... No! Non c'è un po' di... Ti fa la combattere. Donna! Chuck! Yorette! Yorette! Alla stromata là c'è... Lassi! E sempre! Nassi faccio배... Nassi faccio in questo contesto... Torna da me, Elf. Dove mi trovo? Guarda. Ora mi credi, Rami? Cosa mi è successo? La morte ti ha esiliato. Abbandonato tra i mondi della luce e del buio. La maledizione ci riusci tra le mura di Arda. Se ciò che dici è vero... come si spezza la maledizione. Trovando colui che ci ha maledetti, la mano nera di San Romano. la morte ti ha esiliato. La morte ti ha esiliato. La morte ti ha esiliato. Mi ricorda qualcosa. Talion ha ucciso un nobile, Yhoret. La sua vita appartiene a Gondor. Padre, se fai arrestare il mio amato... La sua vita appartiene a Gondor. Signore di carne, carne di schiavo. A Narcos ci siamo dimenticati di te, eh? Rimedieremo subito. Soffri lei per ciò che hai fatto! Soffri lei per ciò che si fai arrestare il mio amato... Pensa a lui. Che cosa sai della mano nera di Sauron? È un mostro... Fatto d'aria! Cosa ha? Uno dei miei schiavi... Giurava di averla affrontato! L'ho venduto... Per un po' di croc... Ma chi, Boop? Lo schiavista! E' lì che dobbiamo regarci. Puoi davvero fidarti di un orco? Non è questione di fiducia. I pensieri non mentono. Nulla ha più senso. Niente è cambiato. È così che sarà. Futuro e passato sono uniti nelle tenebre. Non capisco perché sono qui. E non riesco a ricordare. Cerchiamo lo schiavista. La sua mente avrà le disposte. C'è uno schiavo... Alcuni schiavi fuggiti dicevano di essere diretti al passo di Chiritungo. Così non fuggiranno mai. Su quelle montagne ci sono creature spietate. Quel rabbu ci sta spiando. L'ho sentito. Valmai. Pianci e implora. Ecco lo Shrach. Forgiato dal Mithril, racchiude le memorie degli antichi trascorsi. Tali informazioni possono essere buone o cattive. Questi uomini sono come ratti che infestano la nostra terra. E come ratti vanno schiattati. E lavora tutti dal primo all'ultimo.